Salve a tutto, oggi andremo a vedere come smontare e sostituire la maniglia del tetto dell'Alfa Romeo 147 e Alfa Romeo GT. Andremo a smontare la maniglia, tutti e quattro la procedura è la stessa, sopra il tetto. Prima cosa, dobbiamo togliere questi due coperchi di plastica, perché sotto ci sono i viti per svitare la maniglia. Prendere un giravite piatto, farò leva facendo molta attenzione a non rovinare nel tetto, nel coperchietto, proprio qui in questo angolo, farò leva qui e poi andrò dall'altra parte. Ok, poi provo il coperchietto, troveremo che ci sono questi uno e due ganci che dobbiamo, questi due piroli diciamo, ganci che dobbiamo farle a farle uscire dal suo incasso che sta qui sulla maniglia, in questo punto qui. Dobbiamo far leva e far uscire, insomma, questi due gancetti. Poi troveremo la vite a croce, che andremo ad allentare, quindi dopo aver venuto la vite, ne troveremo un'altra da quest'altra parte, che la procedura è sempre la stessa, basta togliere il coperchietto e poi la maniglia, ecco qui che viene via. Alla prossima.